In questa puntata di Unicam News, emozionante cerimonia di passaggio delle chiavi di Ateneo dal professor Claudio Pettinari al professor Graziano Leoni, presentata la squadra che affiancherà il rettore Leoni alla guida dell'Ateneo. Cerimonia inaugurale per il trentennale della Scuola di Architettura e Design. Firmata la convenzione tra l'Università di Camerino e la Diocesi di San Benedetto del Tronto, ripatranzione Montalto Marche per i musei Sistini del Piceno. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Unicam News. Vediamo insieme il primo servizio. Alla presenza della comunità universitaria si è tenuto lo scorso 2 novembre il passaggio delle chiavi dell'Ateneo dal professor Claudio Pettinari al professor Graziano Leoni, cerimonia significativa che si è tenuta per la prima volta all'inizio di questo sessegno rettorale e che si è svolta davanti all'ingresso del Palazzo Ducale, storico simbolo dell'Ateneo Camerte, unitamente al sigillo che eccezionalmente è stato esposto al pubblico e al gonfalone dell'Università degli Studi di Camerino. Dopo che il direttore generale Andrea Braschi ha letto un estratto del decreto ministeriale di nomina del nuovo rettore, ha preso la parola il professor Claudio Pettinari per un breve saluto ed ha poi consegnato le chiavi dell'Ateneo, tre chiavi a simboleggiare la didattica, la ricerca e l'impatto sociale al rettore Graziano Leoni che ha poi ringraziato tutti i presenti. Il rettore Leoni ha poi salutato e ringraziato il professor Pettinari e gli ha consegnato il sigillo di Ateneo. A simboleggiare l'importanza che gli studenti e le studentesse ricoprono all'interno della comunità universitaria e la vicinanza di questa componente al rettore, il presidente del consiglio studentesco Nicolò Palombi ha appoggiato sulle spalle del professor Leoni la toga rettorale. Oggi prendo le chiavi di questo Ateneo che ha 687 anni alle spalle, è una responsabilità veramente impegnativa. Stento quasi a trovare le parole per manifestare l'emozione che ho, per manifestare la voglia che ho di fare bene per l'Università di Camerino. È un'università che ha tante ricchezze, vanno tutte valorizzate, cinque scuole che coprono tutti i campi delle scienze, della progettazione, i campi giuridici. È un'università che dovrà correre come è riuscita a fare in questi sei anni nonostante il terremoto. Il terremoto ha messo a dura prova l'Ateneo quando abbiamo iniziato il mandato con il professor Pettinari, io sono stato il suo progettore vicario. Abbiamo avanti tante incertezze. Oggi dopo sei anni possiamo dire che quelle incertezze non ci sono più. Abbiamo certezze e speranza che l'Ateneo possa crescere, possa fare ancora bene, ancora meglio di quanto non abbia fatto fino ad oggi. Al termine della cerimonia di passaggio delle chiavi il professor Graziano Leoni ha presentato ufficialmente la squadra che lo affiancherà alla guida dell'Ateneo. Accanto a lui ci saranno il direttore generale Andrea Braschi, confermato nel ruolo che ha finora ricoperto. Il prorettore vicario Emanuele Tondi, che coordinerà anche l'internazionalizzazione dell'Ateneo. La professoressa Giulia Bonacucina, prorettrice alla didattica, orientamento e formazione. La professoressa Sara Spuntarelli, prorettrice alla persona, benessere e opportunità. La professoressa Anna Maria Lueteri, delegata all'attuazione delle politiche di Ateneo per lo spazio europeo della ricerca. Il professor Guido Favia, prorettore alla ricerca e trasferimento tecnologico. Il professore Andrea Spaterna, delegato ai rapporti con il territorio e al diritto allo studio. È stato ufficialmente aperto lunedì 6 novembre il ricco calendario di eventi culturali, seminari, incontri, conferenze, mostre e cineforum per il trentennale della Scuola di Architettura e Design, in programma dal 6 novembre al 15 dicembre 2023 ad Ascoli Piceno. Tutti gli eventi aperti a tutta la comunità universitaria e alla cittadinanza saranno incentrati sui temi della ricerca e della cultura, del progetto in architettura, design e urbanistica e saranno legati da un fil rouge che intende rispondere a una domanda di fondo. Il ruolo oggi di una scuola di architettura e design rispetto alle esigenze della società contemporanea. L'evento inaugurale si è tenuto presso l'Aula dell'Affresco della sede dell'Annunziata, la presenza di rappresentanti delle istituzioni e di testimoni della storia della Scuola di Architettura e Design. Presente anche il rettore Graziano Leoni. Nel corso dell'evento la professoressa Emerita Mariella Zoppi, già preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, ha ricordato la figura del professore Eduardo Vittoria, fondatore della scuola. Ogni settimana sono previsti sia eventi legati alla storia dell'istituzione, sia eventi incentrati sulle prospettive future e professionali delle studentesse e degli studenti. Il programma completo è disponibile sul sito www.unicam.it. Il filo rosso che lega tutto il programma è un po' gli interessi dell'Ateneo e anche ovviamente della scuola. Quindi l'interdisciplinarietà, la volontà di mettere insieme ambiti disciplinari che sono collegati. Quindi dall'architettura, al paesaggio, all'urbanistica, al design, alla creatività e anche a tutti i modi che gli studenti utilizzano per fare le loro ricerche. Quindi in questo senso abbiamo lavorato anche molto sull'aspetto video, c'è una parte di Cineforum che ci teniamo molto. E quindi è un po' cercare di fare una somma degli interessi della scuola attraverso la ricerca che fanno i ragazzi e attraverso la ricerca che si fa qui nella scuola. È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra l'Università di Camerino e la Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto Marche per i Musei Sistini del Piceno. L'accordo quadro è il coronamento di una lunga serie di eventi e iniziative portate avanti con successo negli anni dell'Ateneo e dai Musei Sistini del Piceno, una proficua collaborazione ed un rapporto destinato a consolidarsi, aprendo le porte ad esperienze di tirocini per studentesse e studenti finalizzati alla stesura di tesi di laurea, ma anche ad approfondimenti scientifici per la conservazione, tutela, promozione e studio delle opere conservate nei Musei Sistini dislocati nel territorio, che sono la base della tutela e della promozione delle opere. Presenti all'incontro il professor Claudio Pettinare, il professor Graziano Leone, il vescovo Monsignor Carlo Bresciani, la direttrice dei Musei Sistini del Piceno, Paola Di Girolami. Bene, termina qui questa puntata di Unicam News. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Unicam potete consultare il sito www.unicam.it, nonché la pagina Facebook e la pagina istituzionale Università degli Studi di Camerino. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS